E' un tributo ai più grandi della musica internazionale, soprattutto della musica black, per i Pasadenas il loro primo grande successo in Italia, dal titolo Tribute 9 minuti dopo le 15, la grande musica italiana, i grandi artisti anche per, anche loro con noi per aspettare il Natale 91. Il centro di gravità permanente è firmato Franco Battiato, il 33, chi è che non ce lo ricorda, è il grande La Voce del Padrone. Mi hanno corretto, mi hanno detto che in italiano si dice il centro di gravità permanente, non come l'avevo detto prima, e ora facciamo anche problemi di dizione, tanto per questo Natale i caponi li abbiamo rimediati, ma per l'ultimo dell'anno ancora non è deciso. Cari miei, però con le mie tecnici che mi fanno impazzire ogni giorno di più, non sono diventate più buoni nemmeno con il Natale, e tanto non vi faccio nessun regalo, sono senza una lira, per cui, ecco, tra l'altro anche coloro che mi dicono, sono senza una lira, nessuno si aspetti da me un qualche regalo perché, ehi, non c'è proprio niente. Speriamo che Nevic possa essere il regalo più bello e nessuno si muove, eh, non è male. Info Sim Si chiamerò Penso Boys 13 minuti dopo le 15 Far la pena di rimanere con noi, vero? Abbiamo grande musica E questo non è niente, sentirete i prossimi